Soldati buon anno e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi come ogni anno andiamo a fare top e flop dell'anno, sì, anche del periodo che hanno sconfitto quelli in corso, insomma, però sì, lo chiamiamo top e flop dell'anno. Soldati, soldateste. Allora, mi vedete in vestaglia perché questo è il mio primo top dell'anno. Lo so che non è un cosmetico, però mi tiene caldissimo, l'adoro, quindi top, 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 questa l'ho presa a Berlino. Ma andiamo avanti, io dividerò il video in fasi, quindi andiamo a fare i top della fase e i flop della fase, ad esempio, la prima fase è struccaggio e andiamo a vedere top e flop dello struccaggio. Lo, così anche mentalmente, capisco, ok? Quindi andiamo nello struccaggio. Lo struccaggio in realtà è più un joel. Io questo l'ho riscoperto quest'anno e l'ho utilizzato un po' per tutto. Sto parlando dell'olio di jojoba, non guardate la marca, va bene, qualsiasi olio di jojoba vi strucca. Io lo metto anche come olietto sotto la doccia per il corpo e vi fa la pelle morbida, morbida, morbida. Io lo leggo jojoba, lo sto amando, anche per gli impacchi capelli. Insomma, questo qua è da 100 ml. Penso che la prossima volta comprerò tipo quello da mezzo litro perché lo consumate. E in più, fino all'olietto, una volta che andate a togliere l'olietto, fatelo con questo, ragazzi. Con gli schetti struccanti, lavatevi, utilizzatevi della saponaria. Questa qua, una volta che struccate il viso, lo andate a lavare poi in lavatrice. Ma sono morbidissimi e mi struccano la qualunque meglio. Cioè, portano più cose. E mettete un po' d'olio. Premete così. Oh, voilà. Addio tutto. E questo qua ha struccato anche il trucco, questa combo ha struccato anche il trucco di Demi. Quindi per farvi capire. Per quanto riguarda i flop, allora ci sono altri top, però secondo me la rivelazione è stata l'olio di Jojoba. I flop, non ci sono i flop per lo struccaggio. Andiamo direttamente alla, dopo lo struccaggio, c'è la detersione. Una buona detersione appunto prevede la fase oleosa per sciogliere il trucco, le impurite, gli sporco, eccetera, eccetera. E poi la detersione. La detersione mi è piaciuta tantissimo questa qua, che è la mousse di Bionmi. Top, top, top. L'amata, pratica, veloce. La spruzzate in mano anche pochissimo. Non come fanno in tutti i video che ci metto 800 gocce. No, la struccate in mano. L'ha avuto anche mia mamma. La adora. Vi può un po' leggermente seccare, ma poco 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 rispetto a quest'altra testa che andremo a vedere. Poco poco ho la pelle, ma comunque dopo andate a mettere il tonico, la crema, cioè andate poi, no, a idratare la pelle. Quindi che vi secca un pochino, non credo sia una cosa negativa. Anzi, questa qua l'ho amata. Non so, forse la devo ricomprare, ma voglio provare anche altre cose. Sapete che io provo prima un sacco di cose e poi ricompro i prodotti. Ma questo qua assolutamente mi è piaciuto. Questo qua l'ho comprato io al Sana. E poi questo qua, che è un gel limpiador purificante, appunto, di Feel Free. Che non si sente molto parlare di questa marca, ma è una marca che trovate all'OVS. Questa qua la pagate, mi sembra, sui 9-10 euro. Anche questa qua sui 6 euro, mi sembra. E questa è adatta, la consiglio tantissimo, alle pelle grasse. Anche alle pelli un po', no, masochiste come le mie. Perché io ho la pelle secca, ma questa qua vi secca l'animo. Cioè, una volta che avete finito questa qua, la vostra pelle è super secca. Cioè, vi prende tutto, vi aspira tutto il grasso che avete. Quindi per la pelle grasse è top. Per la pelle secca, che non ama questo effetto, è un flop ovviamente. Però è chiaro, non è un flop perché comunque è purificante. Quindi è questo l'effetto che deve fare. Mi piace tantissimo perché mi va a risucchiare tutto lo sporco. Tutto quello che esce dalla mia pelle. E so che finalmente posso passare al tonico. Come detergente invece del corpo, sto usando la saponetta di tea natura, la calendula. Sto amando, sono passato al solido. Ovviamente non ve la posso far vedere perché sto sotto la doccia. Una volta aperta la saponetta non posso farvela vedere, ecco. Però sono passato al solido per quanto riguarda il corpo. E infatti per questo ho detto non so se le ricomprerò perché passerò, credo, al solido anche con la faccia. Già c'ho delle cose wishlist che comprerò appena mi finiscono queste qua. Quindi passiamo al solido anche per la detersione viso. Entra come flop della detersione non mi sento di flopare nulla. Tutto quello che ho provato comunque a deterge. Però queste qua mi hanno fatto letteralmente. Infatti le amo, le amo, le amo. Cioè per finire questo, solo io, per finire questo che ho comprato, non mi ricordo quanto, su 200 ml di gel. Quindi va sciolto. Questa è una mousse. Sono 150 ml. Sta tipo qua. È quasi finita. Infatti la sto proprio facendo, la sto centellinando. E ama anche mia mamma. Però, l'ho detto, dopo questo passiamo al tonico. In realtà una volta ogni tanto ci sarebbe lo scrub. E questo qua l'ho amato. Scrub sia per il viso che per il corpo lo sto usando. E questo qua lo sto amando tantissimo. Mi piacciono pochi scrub. Se non quello che faccio io, ma mi metto qui sopra. Questo qua. Poi per quanto riguarda il tonico, io, è più uno spunto che vi do. Non è proprio un top. Questo qua. Che è, non guardate, la marca è un idrolato. Questo lo fanno la saponaia, lo fanno tutti quanti, è un idrolato. Che si può mettere al posto del tonico. Di solito il tonico è un mix di idrolati. Questo qua invece è soltanto l'idrolato che è quello di elicrisio. Che va bene per le pelli un po' impure, eccetera, eccetera. Siccome io ho qua la pelle secca, però qua sta scendo un po' di impurità. Ci metto l'idrolato e l'icrisio e lo sto amando. Profuma ovviamente. Ha un odore molto, molto, molto erbaceo. Però mi piace, mi piace tanto. Poi l'altro top sono i tonici spray. Tonici spray, eccolo qui. Questo qua è di acqua alle rose. Perché lo promuovono tanto? Perché è un top. Perché alla fine è un tonico alla rosa. No? Però il fatto che questo qua proprio, a parte che è spray, quindi super pratico. Non dovete usare quanto non c'è niente. Quindi io promuovo e topo i prodotti in spray. Poi andrete a vedere anche altro. E questo qua è 250 ml. Vi dura una fracca di vita. Lo pagate 10 euro, ma vi dura... Cioè, state tranquilli. Quindi questi qua, assolutamente. Qui adesso si andrebbe direttamente al siero. Però ho scoperto questa fase qui, di Eteria. Che è l'essenza. Una volta scoperto, ragazzi, non tornate più indietro. Questa qui è 100 ml. Costi che ha 25 euro, però per 100 ml, veramente ne basta poco. È praticamente liquido. E l'essenza è un mix tra tonico e siero. Però la differenza la vedete. Vi illumina il viso. La adoro e penso che la comprerò all'infinito. Questa qua mi ha stupito perché l'essenza non la facevo. Addio. Per quanto riguarda i sieri c'è anche un flop. Però partiamo dai top. Vi voglio premiare questo qua, che è trovato da OVS e costa tipo 6 euro. Per il low cost. Per il low cost che è. Perché è super... Questo è finito, praticamente. L'ho tenuto stando per fare top e flop. Perché è un'ottima alternativa a chi ha pochi soldi. Un acido... Un acido ironico. Top. Penso anche a voi, ovviamente. Però per chi ha anche pochi soldini, anche questo qui di Biomi Sieroman è topissimo. Lo usate anche come primer, senza prendere primer, viso e bla bla bla. Questo qua è soltanto aloe e acido ironico. Lo potete usare anche come primer, come siero. Insomma, questo qua è la vita. Invece per quanto riguarda un prezzo un po' più altino, parliamo comunque di sui 30 euro. Io questo qua di Nitrodi l'ho praticamente... Cioè, non so se si vede, l'ho mangiato. Ha un profumo fantastico. È stirante realmente perché vi tende proprio a stirare la pelle senza già gli effetti. E questo qua l'ho amato alla follia. E penso che sarà difficile non ricomprarlo. Però, come sapete, devo provare un sacco di cose. Quindi... Per quanto riguarda il flop, ahimè, questo in realtà non è proprio un siero. Però l'ho metto nella categoria siero. E questo qua di Freshly Cosmetics. Lo so, lo so. Tutti quanti lo amano. Questo costa 35 euro. E, come mi hanno detto, prometteva di togliere i brufoletti sotto pelle che ci sono, appunto, nelle zone in cui ci sono. E promette anche di fare altre mille cose. Però, purtroppo, con o senza, io non ho notato differenza. E per 35 euro vorrei notare la differenza, ecco. La profumazione non mi piace. Insomma, non è un acquisto che consiglio e che rifarei, ecco. Perché su di me, sulla mia pelle, ovviamente, non ha funzionato. Adesso passiamo diretti al contorno occhi. Alternativa, lo costo questo qua, che trovate da Tigotà, tipo 2 euro. Ed è fantastico. Vi idrate in una maniera affinita. Vi idrate in una maniera eccezionale. Quindi io lo consiglio già a un paio di persone su Instagram. L'hanno comprato e si stanno trovando bene. Qui è questo qua che si chiama... Cioè, fatevi lo screen, non so. Questo è qui di Light Q. Poi, un altro contorno occhi, però di fascia un po' più alta, parliamo di Kyoho, è lo sgonfio. In realtà è una maschera contorno occhi che fa sgonfiarvi le borse, lavora anche sulle occhiaie. Ci sono un sacco, 3.000 stratti, non sto qui a dire, il video viene gigantesco. Ma se volete, facciamo un video in merito sulla linea di Kyoho. Invece, per quanto riguarda il contorno occhi flop, è questo qui di Naobai. Ok, purtroppo è un contorno occhi che a me non piace. È troppo, troppo pastoso e non riesce ad entrare, lo sento che non riesce ad entrare nella pelle. Ma, grazie al Magic Coil, lo riesco ad usare. Questo qui, in realtà, è un jolly, perché è un olietto, appunto, di Anthos, che costa 20 euro, ma vi dura una marea di tempo e lo usate come siero e siero contorno occhi. E lo sto utilizzando anche per diluire la BB Cream della Saponaria, che non mi fa impazzire. E quindi con questo amate i prodotti, che sono troppo densi, quindi top. Come crema viso non voglio menzionarvi nulla, perché non credo ci sia nulla derivante. Andiamo alle labbra. Andiamo alle labbra e il top labbra, ragazzi, è questa qua. È la maschera di labbra di Mulac. Se avete secchezza, lo mettete la notte, lo potete mettere anche quando volete. Io lo sto usando anche a volte come lip balm proprio. E top, adoro, toglie tutta la secchezza. Invece, come flop, come flopissimo, il kit di BioJ per l'estetista di Scinica. E non voglio essere cattivo, ma credo sia un kit per le bambine. Un kit per bambine che vogliono giocare a farsi i primi trattamenti. Però assolutamente lo scrub non scrabba. Le altre due cose non idratano. La maschera non idrata. Quindi, boh, è tutto un perché l'avete fatto, non si sa. Per quanto riguarda invece le creme mani, come sapete io amavo quella di Anthos. Ma questa qua di Quanticlicium mi sta praticamente letteralmente rapendo il cuore. È un profumo pazzesco. Sento le mie mani proprio che sono migliorate nel tempo. E quindi per forza questa qua che è uscita tra l'altro nel calendario dell'avvento. Direi che per adesso può bastare per quanto riguarda il viso. Se qualche produttore non mi sono dimenticato, uscirà un altro video dove parliamo di corpo e capelli. Così non facciamo un video troppo lungo e dividiamo viso da corpo e capelli. Quindi noi ci vediamo ad un prossimo video. Spero che vi sia piaciuto e soprattutto che state prendendo nota. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Fade life! Grazie a tutti.